Un sabato di festa per celebrare l'avvenuta fusione per incorporazione della Fondazione Chieti per l'Abruzzo e il Molise nella Fondazione Banco di Napoli. Una giornata ricca di eventi quella di oggi a Chieti per celebrare anche la riapertura al pubblico di Palazzo De Maio con una mostra scenografica che sarà visibile fino al mese di ottobre. Far rinascere quella che è stata una storia interrotta dalla nostra fondazione e questo lo potremo fare grazie alla incorporazione dell'ex fondazione con la Fondazione Banco Napoli. Una opportunità straordinaria perché grazie a Fondazione Banco Napoli avremo possibilità di tornare a progettare, a programmare, a investire anche sui settori importanti come la cultura e il sociale. E' un'opportunità straordinaria perché le due città di Napoli e Chieti in qualche modo riallacciano i fili di una storia che fonda le proprie radici in un passato anche remoto ma che grazie a questa operazione rilancia tutta quella grande idealità che anche apparteneva a quella vicenda storica. E poi c'è un progetto al quale io guardo con estremo interesse e sono convinto che la Presidente Pagliotto saprà esserne interprete che è quello di vedere finalmente il meridione d'Italia esprimere le grandi eccellenze e Fondazione Banco Napoli può essere una tra quelle che dà la possibilità a tutti noi di essere orgogliosi di appartenere a questa parte del Paese. Il futuro appartiene a chi verrà, noi siamo il presente quindi lavoriamo oggi sulla concretezza. Posso dire che sarà fatto tanto, di tutto e di più, soprattutto la Fondazione Banco di Napoli si pone oggi come ente fortemente innovativo anche nel sociale e nell'ambito culturale. Unire Chieti e Napoli sono due punti del nostro territorio, del nostro Paese soprattutto del nostro meridione. Noi siamo prima di tutto cittadini italiani, poi dopo siamo dei meridionali orgogliosi di appartenere al sud dell'Italia. Valorizzare le nostre eccellenze, pensare ai nostri giovani, al loro futuro ecco questo deve essere un pensiero importante, riscoprire i talenti e fare del meridione d'Italia quella parte del Paese capace di rilanciare verso una dimensione internazionale, prima ancora europea, un luogo che ha dato tanto e che ancora sa esprimere grandissime capacità, anche produttive e di saper fare, che noi dobbiamo tendere a valorizzare.